Sergio, io ho scritto Angrippa, ho scritto Angrippa prima Mi ha risposto, io ho detto, vieni in live che compriano lei Sergio, ma ha risposto così E' problema che sto raccogliendo arancia, magari adesso c'è mezzogiorno Chiamo io, con la vita chiamata Noi siamo... Va bene, ok, dai Hai detto che raccogli arancia Raccogli arancia e se ne fotte Da sfruttare con gli arancia, da sfruttare, è un lavoro, è al lavoro Però Sergio, non c'è cosa più importante del tuo compleanno oggi Eh, lo so, lo so, ma purtroppo è un lavoro e quindi non può, dai Ciao, ciao